Amici ben ritrovati a questo appuntamento settimanale con la storia locale che quest'anno è un po' allargato anche al resto del Piemonte, visto la maggiore importanza dell'emittente, ma anche per il fatto che ci ascoltano persone che negli anni scorsi forse non sanno di queste nostre chiacchierate settimanali. In poche parole ricordo semplicemente che abbiamo voluto tratteggiare negli anni scorsi un po' di storia locale partendo ancora dalla preistoria addirittura, poi il periodo romano, il medioevo e siamo arrivati all'Ottocento. Quest'anno dedichiamo uno spazio di particolare attenzione al periodo che va dalla nascita dello Stato nazionale, cioè dal 1861 proclamazione del Regno d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale e periodo successivo, oltre poi ad approfondire anche l'aspetto nella conoscenza di alcuni personaggi che in Piemonte e nella nostra zona hanno avuto una particolare rilevanza. Puntate precedenti, settimana scorsa, velocemente abbiamo raccontato quello che è successo in Piemonte e specialmente appunto nella parte nord-orientale del Piemonte, in provincia di Novara, ma anche nel Varisotto, ma anche nella zona dell'attuale Verbano Cusiossola, che cosa è successo dopo il Trattato di Worms del 1743, quando questo territorio fu staccato dal Ducato di Milano, da cui apparteneva ormai da mezzo millennio, per essere aggregato al Regno di Sardegna, dove invece c'erano i Savoia, e siamo andati via un po' velocemente raccontando cosa è successo nella seconda parte del 1700, ricordando che furono gli anni della rivoluzione americana, poi della rivoluzione francese, poi dell'arrivo di Napoleone e successivamente dopo il periodo napoleonico la restaurazione, ma anche l'inizio del periodo del nostro risorgimento. Concentriamoci un attimo su questo aspetto e raccontiamo un po' questo quarantennio che va dal 1814 e poi direi 1821 fino al 1861, in poche parole, era passata l'ondata napoleonica che era stata poi cancellata con la sconfitta militare di Napoleone, il quale in quegli anni stava per morire a Sant'Elena, là in mezzo all'Atlantico, dove era sicuramente in condizioni ambientali molto difficili, gli inglesi non ebbero il coraggio di ammazzarlo, temevano che poi ci sarebbe stata una controondata pro-napoleonica in Francia, lo mandarono in esilio sperando che fosse più o meno dimenticato, ma senza dimenticare che le rivoluzioni lasciano sempre una traccia e la lasciarono appunto innanzitutto tra i milioni di soldati che avevano combattuto per Napoleone e che qui nella loro vita avevano sottolineato l'importanza di alcune battaglie ma anche l'importanza di far parte sicuramente di un movimento post-rivoluzionario estremamente interessante, ma Napoleone lasciò anche una traccia importante in quelle che erano le leggi, i codici napoleonici sono per esempio dal punto di vista legislativo dei codici, quindi delle leggi molto più moderne di quelle precedenti che è difficile poi cancellare e di fatti in buona parte restano. Napoleone aveva fatto anche una rivoluzione di carattere commerciale istituendo in tutta Europa le misure unificate, questo era estremamente importante, prima di Napoleone in ogni pezzettino, in ogni paese, in ogni pezzettino di territorio c'erano delle misure differenti, misure di lunghezza, misure di peso, di capacità, le monete erano differenti, ecco Napoleone cerca di unificare, inventa, fa inventare meglio il sistema metrico decimale, noi oggi parliamo di metri e di chilometri, di grammi e di chilogrammi, parliamo di litri, non parliamo più di pinte come sono rimasti in Inghilterra, perché? Perché fu adottato il sistema metrico decimale ovunque, ovunque salvo che in Inghilterra, perché in Inghilterra non accettava le cose che faceva Napoleone perché era la sua irriducibile nazione nemica ed ecco perché ancora oggi nella zona appunto, forse qualcuno non ci pensa, ma questa è la motivazione per cui l'Inghilterra in Gran Bretagna e in molte delle nazioni che erano state in quegli anni successivamente parte dell'impero della Gran Bretagna, c'è un sistema di misurazione diverso dal nostro, trovate le miglia, trovate le pinte anziché trovate le libre, anziché il mezzo chilo, tutte queste cose. Bene, noi invece il sistema metrico decimale lo dobbiamo a Napoleone che, ed è proseguito anche perché era semplice, perché era facile, perché si divideva per dieci e dieci sono le dita delle mani e avanti così, insomma una rivoluzione che è attecchita. Ma soprattutto la rivoluzione di Napoleone venne nelle coscienze, portò, portò, generò, diffuse quello che era stato l'inoculazione della rivoluzione francese, nel bene e nel male. I principi della rivoluzione francese, egalité, fraternité, sono importanti, egalité, tutti gli uomini sono uguali, tutti gli uomini devono sottostare a una legge e queste qui, la fraternité è stata presto dimenticata, ma per il resto legalité, ci deve essere una legge che deve essere applicata, non perché se tu sei nobile allora non applico la legge per te, no se tu sei ecclesiastico, con alcuna eccezione del tempo, con te non applico la legge, se fai un reato vieni punito o dovresti essere punito come l'ultimo dei più poveri delle persone. Queste cose rimasero anche dopo il congresso di Vienna e partiamo proprio di qua, 1814, dopo Waterloo viene sconfitto Napoleone, viene allontanato Napoleone, la Francia viene ridotta ad essere una semplice nazione dove viene restaurato il re e in tutti gli altri posti vengono alzerate quelle che erano state le repubbliche che erano nate a seguito degli eserci di Napoleone. Nella nostra zona ce ne erano state un'infinità, nel 1797 era nata la Repubblica Cisalpina, capitale Milano, dove per la prima volta si innalzò quella che poi diventerà la bandiera italiana, che era scopiazzata da quella francese ma per cambiare un po' misero il verde al posto del blu e la stessa bandiera è rimasta oggi. Quindi fu fatta appunto la Repubblica Cisalpina. La Repubblica Cisalpina si è sciolta nel 1798, poi è ricominciata il 16 Brumaio, perché allora i mesi avevano cambiato nome anche i mesi, il 6 Brumaio del 1800, forse questa non la sapete, quando c'è stata la Repubblica Cisalpina, hanno cambiato tutti i mesi dell'anno, ricominciando a contare gli anni dall'anno 1, cioè dagli anni della rivoluzione, quindi Brumaio, quindi Vendemiare, insomma c'erano tutti i nomi che più o meno riproducevano le caratteristiche stagionali di questo. Bene, dopo questa è venuta la Repubblica Subalpina, che prende il territorio del Piemonte, questo è interessante, il Piemonte diventa una Repubblica, si chiama Repubblica Subalpina, fino all'11 settembre dell'802, quando viene per un po' annessa addirittura alla Francia, ma il Piemonte, quel Piemonte, la Repubblica Subalpina, non ha la provincia di Novara e non ha l'attuale provincia del Verbano Cuseossola, che sono invece aggregate a quella che è la Repubblica Cisalpina di Milano, quindi vedete che c'è anche una specie di tentativo di ritorno a quello che era a suo tempo il Ducato di Milano. Tra l'altro tutte le nostre zone fanno parte del Dipartimento dell'Agonia, quel fiume che scorre attraverso Porgomaniero dal Motarone e poi scende vicino a Novara e va a finire nel Po. Interessante questo perché in Francia, dopo la Rivoluzione, nascono i Dipartimenti e Napoleone trasporta in Italia anche il sistema dei Dipartimenti, cioè delle province. Le province c'erano già, erano praticamente dei capoluoghi locali che avevano un po' di territorio dove il re, compreso il re di Sardegna, metteva i suoi soldati, metteva un suo intendente, oggi diremmo il procuratore delle imposte, mette un suo responsabile, il prefetto, mette il comando delle armate, oggi diremmo il comando provinciale dei carabinieri, appunto le forze dell'ordine. Il Dipartimento è invece un decentramento di potere ed è interessante questo, Napoleone fa un potere decentrato, la Repubblica stava, la Repubblica francese, la Repubblica cisalpina nella capitale, il governo, il Parlamento, il Parlamento non era certo democratico come quello di oggi, ma ogni Dipartimento aveva una sua autonomia, sia giudiziaria sia amministrativa e le zone del Vercellese, del Novarese, Valsesia e Verbano Cusiossero facevano parte del Dipartimento dell'Agonia, fiume. Altra cosa interessante, se voi andate in Francia scoprirete che anche oggi nessun Dipartimento ha il nome di una città, non c'è il Dipartimento di Nizza, non c'è il Dipartimento di Marsiglia, non c'è il Dipartimento di Parigi, perché per evitare che si montassero la testa quelle di una capitale, il nome del Dipartimento è sempre legato a qualcosa di geografico, quindi non c'è il Dipartimento di Nizza, c'è il Dipartimento delle Alpi Marittime, c'è il Dipartimento non di Aiaccio, ma della Corsica, anzi adesso ce ne sono due, non c'è il Dipartimento di Parigi, ma c'è dell'Alta Senna, della Bassa Senna, della Loira, non c'è quindi Chamberim, ma c'è il Dipartimento della Savoia e d'Alta Savoia, quindi i Pirenei e tutti i vari fiumi che ci sono, fiumi e montagne che ci sono in Francia, per dire che cosa? Che da noi il Dipartimento dell'Agonia rappresentava un superamento, in questo caso, della città di Novara, che era poi la capitale del Dipartimento, ma formalmente non era l'intitolazione ufficiale di quello. O poi addirittura nel 1802 nasce la Repubblica Italiana, ma non è nata il 2 giugno del 1946, ma Napoleone a un certo punto ha concentrato tutte la Repubblica Subalpina, la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Cispadana e ha fatto la Repubblica Italiana, durata tre anni, dal 1802 al 1805, che finisce un po' in modo inglorioso la Repubblica Italiana a prima maniera, che noi quindi dovremmo parlare, come fanno in Francia, di prima Repubblica, seconda Repubblica, eccetera, la nostra sarebbe la seconda Repubblica in questo momento, perché in realtà la trasforma in un regno, il regno d'Italia per un po' di anni, Napoleone infine è un suo parente, gli fa fare pro tempo era d'Italia e nasce appunto il regno d'Italia, ma arriviamo al 1814, che succede? Succede che Napoleone è sconfitto, quindi ritorna alla restaurazione, tutto azzerato, si ritorna come prima, si ritorna come prima, quindi qui da noi ritorna di nuovo il regno di Sardegna, quindi ritorna la famiglia Savoia, il Lombardo-Veneto diventa un regno e diventa aggregato alla corona dell'Austria, i vari stati staterelli emiliani vengono affittati, direi proprio al termine giusto, affittati a vari discendenti della famiglia austriaca, si crea una specie di confederazione di stati, che però non si vuole chiamare confederazione italiana, dove vengono un po' sistemati tutti i parenti, ritorna in Toscana, ritorna in Lorena, quindi il Gran Duca di Toscana, il Papa resta lì e ha lo Stato pontificio, Napoleone addirittura aveva cacciato il Papa da Roma e si era portato in Francia, il suo Stato, anche se formalmente religioso, era prettamente laico, figuriamoci con il ritorno degli austriaci, ovviamente ritrionfa la Chiesa nel senso più anche tradizionale del termine, il potere ecclesiastico, lo Stato della Chiesa, il Papa, ritorna ad essere non soltanto un'autorità spirituale, ma anche un'autorità civile, un re a tutti gli effetti, lo Stato pontificio, al sud il Regno delle Due Sicilie viene rimesso sul trono alla famiglia dei Borboni che già c'erano prima di Napoleone. Ritorniamo però a quello che è il Piemonte, restano anche dal punto di vista del periodo napoleonico tante altre cose che ormai non si possono cancellare, non si possono cancellare per esempio lo sviluppo che c'è stato dal punto di vista imprenditoriale. Nel 1808 i Müller, la famiglia Müller, che era una famiglia svizzera, impianta a Indra i primi telai meccanici, è l'inizio anche in Italia della rivoluzione industriale che in Gran Bretagna, in Inghilterra, era già venuta decenni prima, ma da noi no, si comincia quindi ad avere un cambiamento dei rapporti sociali, non c'è più, specialmente dalle nostre parti, soltanto l'agricoltura o in questo caso il taglio dei boschi, ma si comincia e lo vedremo poi più avanti nel dettaglio, la settimana prossima sarà dedicata proprio tutta alla rivoluzione industriale, perché per i nostri territori rappresenta il cambiamento epocale della rivoluzione industriale dell'Ottocento, a parte le questioni politiche. Quindi si comincia ad avere una rivoluzione industriale con il cambiamento anche sociale, i contadini diminuiscono, aumentano gli operai, il che per certi versi è positivo, per certi versi è anche negativo, ma soprattutto cresce il malcontento. Chi è stato abituato ad avere un po' di libertà, durante Napoleone non ce n'era molta, ma un po' di più prima ce n'era, è chiaro che non può essere molto contento del ritorno di un regime assolutistico, perché allora non c'era la Costituzione, quindi con meno diritti per i cittadini, quale era rappresentato dai Savoia. Quindi qua e là, nel Regno di Sardegna, cominciano i disordini. L'8 marzo del 1821 scoppia l'Alessandria, quella che è considerata la prima rivolta del risorgimento, Santorre di Santa Rosa, se l'avrete già, forse, chi è anziano queste cose le ha studiate a scuola, temo che questo adesso non si studi nemmeno più. Fu il primo esempio che dimostrò come covava sotto la cenere un po' di risentimento. Il Santorre di Santa Rosa chiude presto la sua esperienza, deve scappare, anziché lo fanno fuori, andrà a farsi ammazzare in Grecia, poveretto lui, però intanto scoppia la rivoluzione, a Modena scoppia un'altra rivoluzione, anche perché in quel momento i Savoia tenevano una posizione un po' equivoca. In quel momento, se andiamo a guardare la discendenza di Savoia, a comandare era Carlo Alberto. Carlo Alberto era uno che teneva una posizione molto ondivoga. Allora, prima c'era, riassumiamo bene, per una volta dicendo dei nomi, se non ci capiamo. Allora, Vittorio Emanuele I ritorna nel momento in cui viene restaurato il potere Savoia dopo il periodo napoleonico, ma quando vede che è difficile mantenere la sua posizione, cede il potere a Carlo Felice. Carlo Felice, che era sempre della dinastia Savoia, ma non era ufficialmente re, amministrava per conto di Carlo Alberto. E quando è morto Carlo Felice i Savoia si trovano in un problema dinastico, in quanto non ci sono eredi diretti di Vittorio Emanuele I. Alla fine il potere viene trasferito a un altro ramo della famiglia, il ramo cadetto, dei Savoia Carignano. Esponente della famiglia di Savoia Carignano è Carlo Alberto, che ritroveremo poi nelle guerre di indipendenza. Carlo Alberto era un cattolico molto zelante ed era contro rivoluzionario, quindi se vogliamo rappresentava bene il potere assoluto del Savoia in quel momento, ma è molto giovane, quindi Carlo Felice, per nome e per conto di Carlo Alberto, esercita di fatto il potere e lo porta avanti per un po' di anni, perché lo porta avanti fino agli inizi degli anni 30. Carlo Alberto pian piano cambia come sovrano, comincia a capire che uno Stato moderno non può prescindere da una certa libertà, da un minimo di democrazia o perlomeno da coinvolgere in qualche maniera il potere anche quelle classi che stanno trasformando il Piemonte, quelle classi quindi che cominciano ad essere oggetto e soggetti di una rivoluzione commerciale, industriale e quindi lavora per ammodernare le strutture del paese. Nel 1826, già sto per dare un'idea, siamo in quel periodo, sul Lago Maggiore arrivano i battelli a vapore e comincia il servizio di navigazione, il primo battello si chiamava Verbano, di navigazione attraverso il Lago, un servizio che tocca la sponda piemontese dei Savoia, quella dall'altra parte, quella oggi lombarda degli austriaci e arriva sul fine a Magadino, la Svizzera, quindi comincia ad essere un servizio internazionale, quindi si sviluppa, la macchina a vapore è la grande scoperta della prima metà, la scoperta era stata fatta da Vatta alla fine del Settecento, ma le sue implicazioni pratiche, la rivoluzione industriale nasce grazie alla macchina a vapore e quindi oltre alle macchine a vapore che fanno funzionare in questo caso il battello, la grande invenzione di quel periodo è la macchina a vapore applicata al treno, i primi treni che cominciano a circolare e questa è un'altra velocizzazione importante nei traffici. La prima in assoluto fu fatta in Inghilterra come sempre in quel momento perché l'Inghilterra era la nazione faro d'Europa nel 1825, ma nel 1839 per esempio, non so se lo sapete, credo di sì, la Napoli Portici fu la prima ferrovia italiana e erano soltanto 15 km, però era già un inizio di sviluppo. Però poi mentre a Napoli sono fermati lì, invece in Italia settentrionale la ferrovia si sviluppa, si sviluppa velocemente. Contemporaneamente alla Napoli Portici il sovrano di Toscana che era molto sveglio fa la Livorno-Firenze, quindi era già il collegamento tra la capitale e il mare, ma proprio in pochi anni si moltiplicano. Nel Regno di Sardegna la ferrovia più importante che nasce è la Torino-Genova, per la prima volta vengono superati gli appennini e non era facile allora traforare appunto i lunghi pezzi di montagna per farci passare un treno, però fu possibile in poco tempo andare dal Piemonte, da Torino la capitale al Porto di Genova, questa sì che è una rivoluzione. E avanti così, nel 1845, anticipo un attimo, ma dobbiamo stare nei tempi, nel 1845 nasce la Alessandria-Novara-Arona, quindi si collega la pianura al Lago Maggiore, di lì si prende il treno e si può andare fino in Svizzera. Nel 1855, quindi siamo prima dell'Unità d'Italia, dal 1885 si può andare da Novara a Gozzano, quindi si arriva al Lago d'Orta che poi continuerà alla fine dell'Ottocento fino a Domodosso. Nel 1871, ma qui siamo già avanti, nascerà con il traforo del Frejus la prima volta per il passaggio delle Alpi in treno, che vuol dire la rivoluzione, perché vuol dire non dover tenere più conto dell'estate, dell'inverno, quando i passi chiudevano per la neve, voleva dire arrivare in poche ore da Torino a Parigi o comunque alla Francia. Torniamo però velocemente alle nostre posizioni. Siamo quindi a questa costruzione, qui manca una pietra, manca la pietra politica e Carlo Alberto presto diventa il sovrano a cui guarda un po' tutta l'Italia, perché nel progredire delle rivoluzioni, arriviamo al 1848, quando in tutta Europa scoppia la rivoluzione e scoppia soprattutto a Vienna, dove viene cacciato Metterly, che era il primo ministro austriaco, la rivoluzione scoppia nel cuore dell'impero, in quel momento, a parte la Gran Bretagna, a parte l'Inghilterra, noi diciamo sempre Inghilterra, ma è giusto dire Gran Bretagna, il vero potere europeo è a Vienna, è l'impero osburgico quello che comanda in Europa, che scoppia la rivoluzione popolare lì, vuol dire che è il crollo di un mito, e di fatti la rivoluzione scoppia dappertutto, scoppia a Milano le 5 giornate, scoppia a Brescia le 10 giornate, e a quel punto Carlo Alberto non può più star fermo, perché deve pure prendere una decisione, i Savoia devono scendere in campo, e dove scendono? Scendono dalla parte, direi, democratica, nel senso che ufficialmente il Piemonte si dà una Costituzione, certo sulla punta delle baionette, una Costituzione però che permette per la prima volta di eleggere un Parlamento, era un Parlamento non eletto da tutti, il corpo elettorale era molto ridotto, poteva votare solo chi sapeva leggere e scrivere, che pagava un po' di tasse, che aveva fatto servizio militare e ovviamente che fosse maschile, le donne non le considerava nessuno, però è l'inizio di un qualche cosa, è l'inizio del processo che porterà poi al risorgimento e alla fine anche al Parlamento come lo intendiamo noi oggi. E quando finisce, adesso vado svelto, quando finisce male la prima guerra di indipendenza, perché Carlo Alberto, l'eserto piemontese, viene sconfitto dagli austriaci, prima nel 48 e poi nel 49, seconda batosta, la guerra dura pochi giorni, battaglia di Novara, i piemontesi perdono, Carlo Alberto è costretto all'abdicazione e deve andarsene, ma mentre gli altri stati, i sovrani come i Borboni, ritirano la Costituzione perché si sentono più tranquilli, Carlo Alberto dice no, dà le dimissioni, troviamo così perché il suo figlio Vittorio Emanuele II prende dinasticamente il potere, diventa re di Sardegna, ma Vittorio Emanuele II mantiene l'impegno del padre, non toglie la Costituzione e Piemonte rimane ad essere l'unico staterello italiano in cui ci sono i diritti del popolo e questo è una calamita per far guardare al piccolo Piemonte da tutta Italia, ecco là è il faro di quello che può essere l'inizio della nazione. Sono andato più lento del previsto e mi scuso, io volevo arrivare fino al 1859, ci siamo fermati al 1848, la prossima volta andiamo più veloci, ma poi ci si lascia un po' prendere. Quindi grazie dell'attenzione dedicheremo la prossima settimana appunto agli ultimi sviluppi del risorgimento prima dell'unità nazionale e o la prossima o quella dopo però può concentrare l'attenzione su un personaggio che voi tutti avete, conoscete dalla scuola se vogliamo, Garibaldi, perché proprio Garibaldi? Ma perché tutti sappiamo più o meno cosa ha fatto Garibaldi con l'impresa dei mille? Pochi sanno che cosa ha combinato, è proprio il caso di dire combinato, Garibaldi dalle nostre parti, perché sia della prima che nella seconda guerra di indipendenza, Garibaldi è andato a fare la guerra proprio sul Lago Maggiore, proprio in provincia di Novara, attraversando il Ticino, Aron era il suo quartier generale, ha imbrogliato le austrieci, si è messo a sparare in giro per il lago facendo qui e là un po' di disastri, poi è sbarcato dall'altra parte, insomma è stato un personaggio anche locale che va conosciuto e a cui dedicheremo qualche minuto in più. Grazie per l'attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.